Cari amici, oggi parliamo di un lungometraggio che mi ha colpito in maniera particolarmente positiva. Si tratta dell'ultima fatica di Robert Zemeckis, The Walk. Dopo il documentario Man on Wire, che ha fruttato nel 2009 l'Oscar a James Marsh, Toccare le nuvole funge nuovamente da soggetto per un film memorabile sulla vita e sulla più incredibile impresa dell'artista francese Philippe Petit, abilissimo funambolo nonché mimo e giocoliere. La regia viene stavolta affidata ad una mente frizzante ed evergreen, sposa fin dagli esordi di uno stile narrativo che attribuisce al cinema quel profilo evasivo, se non addirittura magico, che costituisce una delle sue componenti più antiche e autentiche. Pensate alla trilogia di Ritorno al Futuro, che ha incastrato Roger Rabbit, La Morte ti fa bella, Forrest Gump, Castaway, Polar Express, A Christmas Carol o addirittura Flight. The Walk è un'opera che mira a sorprendere, a sganciare lo spettatore dall'ordinarietà pur rimanendo, tutt'altro che paradossalmente, con i piedi ben ancorati al mondo terreno. La storia trae origine dalle passioni giovanili di Petit, quando girovagava per le strade di Parigi incantando i passanti, e stringeva un'amicizia a duratura con Papa Rudy, maduro cercense interpretato dal sempre carismatico Ben Kingsley. Accenna quindi alla camminata tra le torri campanarie di Notre Dame per giungere alla leggendaria mattina del 7 agosto 1974, in cui le novelle Twin Towers new yorkesi vennero unite da un cavo teso a più di 400 metri dal suolo. L'umanità sovrannaturale che viene messa in luce corrisponde all'invito implicito rivolto dal protagonista nel suo alternato apostrofare il pubblico. Afferrare con tenaci i propri sogni, sfidare le regole e persino l'assurdo pur di metterli a segno. Qui risiede l'eccezionalità di questo racconto, partorito da una società alle cui mirabili costruzioni sanno offrire l'opportunità di elevarsi al cielo anche a chi versa in condizioni tutt'altro che floride. E l'incanto, il brio, l'inarrestabile entusiasmo di una simile avventura, non potevano forse trovare autore più pertinente di Zanekis. Non c'è cedimento nel lungo e ricco corso degli eventi, che si inanellano stupendo e irretendo in una catena che sostiene con disinvoltura la non trascurabile durata del film stesso, e in particolare dell'intricata parabola che descrive la preparazione del colpo. La ricerca dei complici, il ricorso alle preziose lezioni di paparudi, lo studio approfonditissimo dei ritmi e delle geometrie che circolano su e giù per i 110 piani del World Trade Center. La consapevolezza del rischio e dell'immensa gioia che un'esperienza del genere possa donare a chi impegni tutte le proprie energie nella fantasia e nell'intraprendenza. The Walk fluisce con grande naturalezza, grazie alla stimolante performance di Joseph Gordon-Levitt, figura verso cui tutto converge con liceità, e che da petit stesso ha appreso in circa una settimana l'arte di sapersi muovere con eleganza e sicurezza su un filo sospeso. Le traversie mostrate trovano alleati efficaci nelle musiche del fedele Alan Silvestri e nei vertiginosi, è proprio il caso di dirlo, effetti speciali, i quali attraverso la fotografia multiforme di Darius Swolski trovano piena e convincente realizzazione. Voto al film 4 stelle su 5. Va detta una cosa questo segno. A fronte di un budget di 35 milioni di dollari, di certo non spropositato per una produzione di questo calibro, gli incassi si sono rivelati essenzialmente penosi. 10 milioni in tutti gli Stati Uniti e 38 a livello mondiale, in attesa dell'uscita in Giappone e probabilmente in Cina. Una pietà. Sono proprio curioso di sapere se esiste al mondo una persona che sappia dimostrarmi che è lecito questo buonsenso degli americani che vanno a regalare 650 milioni di dollari a Jurassic World e l'1,5% di questa somma ad un film la cui qualità è nettamente superiore e pur tuttavia, sottolineiamolo, è anche di facile presa sul pubblico. Vi lascio con questa piccola invettiva che spero condividiate e vi rimando all'articolo scritto per Rublietta Magazine e linkato qui sotto. Non dimenticatevi di scrivervi e di seguire la pagina Facebook. Vi aspetto su questi schermi a breve. Grazie a tutti.